Il progetto è stato presentato qualche mese fa come un'occasione importante da non farsi scappare visto il consistente finanziamento a disposizione. Decine di milioni di euro, si ipotizza circa 70, messi a disposizione dall'Unione Europea per i comuni di Paternò e Ragalna con il progetto SIRU. Il comune di Paternò aveva chiamato a raccolta le associazioni del territorio perché, come richiede l'Unione Europea, i progetti e come investire le risorse vanno studiati con chi vive il territorio. La loro presenza è dunque fondamentale, tanto che nelle riunioni è stata sempre registrata per poter fornire la documentazione all'Unione Europea. Paternò ha organizzato due incontri preparatori, almeno così sembrava, visto che alle riunioni non sono stati forniti dettagli specifici, ma è stato solo presentato sommariamente il progetto. Oggi si scopre che è già stato fatto tutto. Delle associazioni presenti, non chiaro quanti siano stati effettivamente i partners coinvolti. Di certo non tutti sono stati avvertiti. Complessivamente sono 17 le proposte presentate. A guardare i progetti, sembra emergere chiara la presenza del presidio partecipativo del patto di fiume Simeto con più iniziative. Per tutte le altre realtà del territorio, le idee possono continuare a restare chiuse in un cassetto. L'assenza di un confronto reale con tutto il territorio ha prodotto un errore gravissimo, visto che tra i progetti non figura la collina storica e la possibile valorizzazione dei beni artistici come la Madonna dell'Itria di Sofonis Banguissolo, la Madonna del Gaggini della Madonna del Carmelo, pezzi rari di una valorizzazione turistica che a Paternò è destinata a restare uno slogan elettorale. Tra l'altro si resta sorpresi quando si leggono i progetti da presentare e si scopre che figurano anche interventi di messa in sicurezza, adeguamento antisismico e impiantistico di quasi tutte le scuole di Paternò, gran parte delle quali sono già destinatari di cospicui finanziamenti con i fondi del PNRR, oltre a milioni di euro già spesi in passato. Visto le somme investite per ogni scuola con risultati disastrosi, visto le condizioni in cui si trovano quasi tutte le strutture scolastiche, probabilmente si sarebbe speso meno se gli edifici si fossero abbattuti e costruiti nuovi. Non sono gli unici problemi per il Lassiru, come evidenzia la consigliera comunale Maria Barbara Benfatto, che da componente del Consiglio dell'Unione dei Comuni ha votato contro la strategia territoriale perché dice quanto fatto potrebbe inficiare l'intero progetto.